bello a tutti ragazzi sono cfxgossi e oggi siamo qui ritornati in un nuovo video oggi faremo gli incarichi fantasma della settimana 3 lo so è un po' in realtà giusto un po' giusto un po' e oggi quindi andremo a fare gli incarichi della settimana 3 eh si la madonna tengo poche robe lasciamo stare dai negozi oggetti vediamo un pochettino eh vabbè comunque sono appena tornato tornato merda ho shoppato un bel po' di roba qua del pride ah ci ha miserso pride di merda ah giusto devo rientrare giusto santissimo mi sono scordato vabbè ovviamente me lo rinnoverò oggi stasera minchia 5 di settembre quindi ogni 5 di settembre me li darò in bacca a posto ma come sono forte come sono formidable comunque ragazzi cfxblinks mi ha detto però è tutto vabbè lo so è ritornato nel canale finalmente dopo un bel po' che oddio santo che cazzo sono tornato sono tornato un po' di armi nel frattempo che io non c'ero comunque ragazzi a quanto pare è ritornato e mi ha detto che se cioè tra 20 minuti voleva giocare a qualcosa spero che non sia fortuna e che facevamo un video quindi io vi inizio già a dire che faremo un video però non penso non so fortuna boh forse è su roblox lo vorrei fare su un gioco però cfxblinks non penso proprio che lo accetterà cioè jeshi nimbact come tutti lo sapete è un gioco anime dove praticamente si bloccano personaggi si fa la storia e tutto peccato che lui e ovviamente si combatte giustamente e penso proprio che lui non lo voglia fare dato che non gli piacciono gli anime quindi boh vabbè lasciamo stare questo piccolo particolare la cosa positiva è che è ritornato nel canale e infatti è passato pochissimo da quando è ritornato e neanche la sua che cazzo è sta ovviamente ora se è di qualche collaborazione qualche film in questo momento non la sento bene quindi potrei anche sapere il nome del film oppure di qualche collaborazione perché la sento poco oh no però c'è oddio sembra tipo pride oh jesu no dai per piacere no pride di nuovo no no muovi muovi all'improvviso viene in ariana grande che fa il pride no vabbè no io per piacere per piacere ve lo chiedo per piacere ma ma vorrei capire che cosa è cambiato lì perché qua c'è una nuova zona ovviamente mh cioè già l'avevo aggiornata come tutti sapete ma non capisco cosa c'era ok scala livelli vabbè non me ne frega tanto dei livelli io voglio fare scala livelli per il piccone ah il piccone ce l'avevo sbloccato per gli stili del piccone ma sono proprio vicini non dirmi che senare lo sapevo ma la bovombra buono sono ritornate anche le bovombra ah mi ricordo ancora in quella season io ovviamente giocavo da nintendo quindi i video non li facevo dato che praticamente era tipo la season 7 era appena uscito fortemente su nintendo non facevo video con la nintendo dato che con la nintendo non ho ancora capito come si fanno ma infatti un sacco di loro dicono che è impossibile da fare e questo è semplice però tipo 10 minuti già abbiamo completo tutto siamo già a livello 203 io santo incarichi scala livelli se volete fare un botto di livelli vi consiglio di shopparvi incarichi scala livelli ve lo consiglio perché che ogni ogni gettone che prendete vi fa un livello guardate ok prossimo allora ovviamente non so che video faremo con cfx blinks vi giuro spero un video carino no che facciamo qualcosa di bello no qualcosa di brutto allora di qua tech e l'ultimo sì è l'ultimo ragazzi in questo momento c'è non so se fare una cosa del genere tipo portarvi jeshi in impact tanto tempo per tanto per tante volte crocevia di truciolandia che cazzo che cazzo è sul gioco a fare un video non so se nel suo o nel mio canale voi vedete da tutte e due le parti vi inizio già a dire perché lo specificherò la mitraglietta è silenziata anche torna addio santissimo fda che cazzo è mollè fda non solo bastava l'ads ma anche l'fda cazzo no vabbè che cavolo sono tornato minchia adesso torna lo sapato ah comunque ritorna il pompo del nonno per chi non lo sapesse ah fda silenziato sarebbe ah fucile f di da d'assalto di non scomparire stronzo no non capisco vai uccidimi uccidimi per piacere mi riesce ad uccidere non l'ho ucciso io io signori abbiamo finito anche questa settimana oddio santo è vero io farei gli incarichi di zoo Cioè la cosa molto più difficile Sarà molto difficile Mi ho sbloccato questi stili Quindi del dorso e del piccone Coppa in arrivo Ok fammi vedere Dreamer Premi ricompense Un epico dreamer Migliore di 2750 A squadre Oh cazzarola Ragazzi vi giuro Vi prometto che forse lo faremo Se troviamo qualcuno Se troviamo qualcuno ragazzi Se lo Se troviamo Garighi gioca a modo tuo Giusto Farò anche questi E niente Spero che il video vi sia piaciuto Lascia Tra 20 ore Giusto Giusto raga 6 settembre si levano Dio santissimo Quindi facciamo il video ora E niente ciao Spero che il video vi sia piaciuto Lasciate like Iscrivetevi al canale Wow 8 minuti Dio santo Il record Il video più corto della mia vita E niente ragazzi Spero che il video vi sia piaciuto Lasciate un like Iscrivetevi al canale Se non l'avete fatto Attivate la campanellina Per non perdervi nessun video più Ovviamente Qui Ora Apparirà il canale ChefX Blinks E niente Un saluto a ChefX Ghost E ciao 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 Ciao